Scegli un giardino e assapora la vita. Nelle 12 partite esterne che ha giocato, contando anche quella di Fasano, la Cavese ha sempre segnato in questo campionato 2022-2023. Con il gol firmato da Banegas a Fasano ne ha realizzati 22, lontano dalle mura amiche, anche se contro la formazione di Ivantisci la Cavese avrebbe potuto segnare ancora e avrebbe indirizzato forse più a suo favore la partita stessa che poi ha solo pareggiato. Quattro gol a testa per Foggia, Gagliardi e Banegas, due per Mugnoz, Bezzon e Daliperta e un solo gol a testa per Bacio Terracino, Bubas, Cuomo e Magri nelle 12 trasferte del campionato. Alla capacità di giocare a calcio, i bianco-blu fuori casa hanno anche saputo unire una buona solidità, soprattutto da quando è iniziato il girone di ritorno, ma questo dipende soprattutto dal recupero di Lomasto e dagli inserimenti di Magri e Cuomo. Nessun'altra squadra tra quelle della Serie D girone H è riuscita a fare gol in tutte le partite esterne finora giocate, neppure il Brindisi e nemmeno il Matera, che hanno comunque tutte e due una predominanza offensiva. Anche se c'è da dire che il Matera, nella sola gestione di Salvatore Ciullo, che ha migliorato sotto ogni aspetto la squadra bianco-azzurra, i Lucani hanno sempre fatto gol fuori. Nelle prime 12 trasferte giocate, la Cavese ha sempre gonfiato la rete, dicevamo, ed è al momento una specie di record. Neanche le rose aquilotte che hanno vinto i campionati, guadagnando la promozione nella Serie Superiore, ci erano riuscite. Neppure le formazioni allenate da Campilongo, Somma e Pietropinto. Anche se fa eccezione la squadra di Vittorio Belotti, quella che dall'eccellenza salì in Serie D nel 1994. Quella formazione fu capace di segnare gol in 13 trasferte di fila, prima di restare a secco ad Ariano Irpino, dove pareggiò 0-0, ma la promozione era sempre più vicina. Quindi il record che insegue la Cavese di Emanuele Troise è quello di poter fare l'unplen e di segnare in tutte le gare in trasferta, dove è spesso più difficile andare a rete per tutti. E a questo abbinare addirittura anche il primo posto definitivo, con conseguente promozione. Però per questo obiettivo in particolare bisogna soprattutto vincere. Non basta segnare.